Salve, stasera volevo parlare del decreto di Conte, il DCPM che aveva fatto poco tempo fa, che diceva che i bar, i locali, tutte le pizzerie devono chiudere a mezzanotte e quello ci può anche stare. Quello che non ho capito bene, prima avevano detto che non puoi servire da bere alla gente in piedi, dopo le 21, col prossimo decreto penso che siano addirittura le 18, allora io dico Conte, ma dobbiamo combattere il coronavirus, il covid-19, metterlo come vuoi, o la cirrhose epatica, perché se non puoi dare più da bere alla gente combattiamo la cirrhose epatica. Un'altra cosa che io volevo dire, con quella storia che avevano detto che nelle famiglie, se fai una festa o inviti dei parenti o chiami chi ti pare, non più di sei persone con tanto di mascherina in casa, che all'inizio si dicevano, ma manderemo poi i vigili controllare di qua di là, che un ministro ha detto, no, è un'assurdità. L'unica cosa che possono fare sono i vicini che devono avvertire le forze dell'ordine, che sono più di sei. Allora, questi vicini possono usare quella nuova applicazione che verrà fuori dopo l'app Immuni, verrà fuori anche l'app Infami, perché il vicino che denuncia il vicinato è l'infame. Va bene, tutto qui è stato un decreto, ma ne uscirà un altro decreto, perché visto che qui dicono che stanno aumentando i malati a dismisura, che sono poi quasi tutti ansiomatici, che non sono poi contagiosi con il livello di prima, e qui che il governo sapeva, cioè non sapeva che era già settembre-ottobre l'anno scorso, che c'era già in giro il virus, ma sa che in agosto, luglio-agosto doveva sparire, però sapeva, io parlo già quasi l'anno scorso, sapeva che ottobre tornava come è fatti, è tornato, perché cacchio, il governo ha firmato con la FCA di Elkan, della Fiat, un contratto per fare 27 milioni di mascherine al giorno, cacchio, vogliono vendute queste mascherine qua, 27 milioni al giorno. Adesso staremo da vedere, adesso vogliono far chiudere le palestre, vogliono far chiudere tutte le fiere, le feste, tutte le varie sagre, voglio poi vedere se chiudono anche le feste dell'unità, come è successo la volta scorsa che hanno chiuso tutto all'infuori che le feste dell'unità, chissà perché, chissà perché, misteri della vita, questi sono i misteri della vita, chiudono tutto ma non le feste dell'unità, ma adesso con questo qui vediamo, forse stavolta le chiuderanno sul serio, perché essere poi arrivare a questi livelli, va bene. Signori, io con questo decreto qua, aspettiamo quello nuovo che dovrebbe uscire in questi giorni qua, o oggi, domani, sera, domani, se non so quando vedesse, vedremo quale restrizioni ci hanno dato, per il momento siamo nel panico, perché qui, l'hanno sempre detto, tenere un popolo alla testa bassa, preoccuparlo preoccupare, è facile governarlo. Va bene, signori, io sto letteralmente arrabbiato su tutto, ma però cerco di stare calmo. Salve!